Allora come gruppo abbiamo alla tastiera Arturo bevi l'acqua, alla batteria Alberto Cecchetti, al basso Fessi parlando lì, alla guitarra Jonathan Nega Matteo Core e alla voce la nostra piccola Giada Core. Grazie. 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 Grazie a voi. ...la pianista Catarina, ma che è una grande granica. Brava, componiamo il suo gruppo. Grazie. Grazie a voi.